Diamo il benvenuto sul nostro canale a Fabio, direttore creativo del marchio Amelia Casablanca e ciao benvenuto sul nostro canale. Ciao e grazie a voi per l'opportunità. Ho assistito questa emozionante sfilata con questo grandissimo cuore, che significato ha? Beh, innanzitutto sì, la sfilata è un po' l'acme di tutto il lavoro preparatorio che c'è a Monte, qui si raccolgono i frutti però la sfilata è un grande evento dove nulla è lasciato al caso e quindi le musiche e quindi gli accessori e oltre che l'abito che diciamo è il protagonista principale che la fa da padrone, quindi grande cura del dettaglio e mi fa piacere che tu abbia apprezzato la nostra sfilata. Amelia Casablanca è un marchio che si riconosce per la sua tradizione e per diciamo la sorterialità, quali sono le novità di quest'anno delle collezioni? Sì, noi manteniamo sempre una coerenza di fondo, apparteniamo a un genere romantico, noi siamo dei romantici cronici, dico sempre, ogni anno siamo alla continua ricerca di nuove forme, nuovi materiali, nuove proporzioni e in salse diverse quest'anno abbiamo proposto il nostro abito tipicamente Casablanca, quello che ci rende fortunatamente riconoscibili tra mille. Ah, quello indubbiamente! E quindi spazio ai pizi francesi, spazio al ricamo sartoriale delle nostre sarte, delle sapienti mani delle nostre sarte che conservano una tradizione sartoriale veramente invidiabilissima, che in tanti ci invidiano e questo fa un mix che rende la nostra collezione veramente molto appetibile nel panorama della moda sposa di riferimento per il segmento del settore principesco. Infatti, quindi il sogno classico di una sposa di diventare principessa. Esatto, ma al grado i momenti contingenti che stiamo vivendo, che sono quelli dell'emergenza pandemica, ma purtroppo anche quelli del conflitto che si sta verificando in Ucraina, la sposa conserva ancora il desiderio della componente del sogno che ruota intorno alla scelta dell'abito da sposa. Noi lavoriamo per questo, per cercare di contribuire a creare il sogno affinché il sogno non svanisca, anzi tutt'altro. Ah, sicuramente. Allora, parlavi di tessuti, quindi quali tessuti hai utilizzato in questa collezione? Tantissime organze, tante pure sete e poi il pizzo, il pizzo francese, che andiamo a cercare direttamente in una regione della Francia, che tradizionalmente è quella più legata alla produzione. Lì ci sono dei telai del Settecento e le mani... Che ancora resistono. Che ancora resistono. Lavoriamo con dei disegni esclusivi che vengono prodotti in azienda dai nostri laboratori creativi e poi vengono messi sul telaio direttamente in Francia e quest'anno abbiamo inserito come elemento di novità. L'anno scorso avevamo la farfalla, come simbolo della rinascita. Quest'anno alla farfalla, nel pizzo francese che è stato proprio prodotto per noi in modo esclusivo, abbiamo inserito anche la spiga di grano, simbolo ecco di fecondità, simbolo anche di rinascita e quindi spazio anche alla spiga di grano che tu hai visto in passerella e che ha riscosso dei risultati lusinghieri. Quindi questi sono gli elementi su cui ti ispirate per le collezioni? Esattamente, ma c'è anche la possibilità di personalizzare i capi perché i nostri rivenditori, che sono degli addetti ai lavori che storicamente da anni posseggono delle boutique di rilievo a livello nazionale e internazionale, siamo aperti anche alla loro contaminazione, di conseguenza è possibile apportare tutte le modifiche del caso, siamo pronti ad accoglierle e a ricepirle. Vedo sempre dei colori termi, ma perché proprio il classico stile principesco è questo? Sì, è vero, è vero. Il bianco, il biancoseta la fanno da patrone, anche se c'è anche qualche digressione che va sul lavorio, sul miele, comincia a prendere piede un po' il colore, fermo restando che certamente il biancoseta è ancora il colore dominante per la sposa romantica e per la sposa casablanca. Che consiglio possiamo dare a una futura sposa che deve scegliere un abito e a questo pensiero principesco? Quello di aprirsi al cuore, di ascoltare i consigli dei negozianti. Ripeto, molto spesso ci si reca nel proprio atelier di fiducia, laddove ci sono delle professionalità importanti che sono capaci di valorizzare il fisico della ragazza e quindi è bene ascoltare i consigli del personale specializzato e ovviamente quello di base però la sposa non deve mai lasciare certamente il proprio gusto. Quindi che sia la sintesi di entrambe le cose, che ci sia un incontro tra quello che viene proposto dal negoziante e anche dal sogno della sposa e questa è la missione di ogni negoziante, quello di cercare di far rivivere sulla pelle di ogni ragazza il sogno della sposa. Che a volte però non è così, a volte i negozianti forzano un po' la mano e non ascoltano bene la sposa. E questo non è un bene, non è un bene perché così si snaturerebbe il modo di essere di ogni ragazza. Quindi consigliamo sempre ai nostri negozianti di tenere sempre un occhio di riguardo per i gusti di cui sono portatrici le spose. Possiamo lasciare un messaggio ai nostri ascoltatori del canale YouTube? Un messaggio di grande fiducia, di speranza per una ripartenza con una giusta predisposizione d'animo per tutti i ragazzi che vanno a fare un passo così importante nella loro vita. Grazie a voi, grazie a te per l'opportunità. Grazie Fabio di essere intervenuto sul nostro canale e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti. Grazie a tutti i nostri ascoltatori, grazie a tutti i nostri ascoltatori, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a tutti i nostri ascoltatori.